A Caltanissetta la Befana non è arrivata a cavallo della sua scopa volante. Il 6 gennaio ha raggiunto grandi e piccini alla stazione ferroviaria comodamente seduta sul sedile. Appuntamento mattutino per i piccoli accompagnati dai genitori e dai loro nonni dove alle ore 11 sul primo binario hanno visto arrivare l'arrivo della Befana che ha donato loro dolcetti e caramelle. Dopo un lungo stop dovuto al periodo delle restrizioni anche Caltanissetta ha potuto riprendere questa iniziativa che il giorno dell'Epifania tocca tutte le ferrovie italiane ha dichiarato il presidente del dopolavoro ferroviario Michele Calabrese.